Nel secondo esempio consideriamo un sistema in cui il parametro k compare più di una volta, ma soltanto tra i coefficienti delle variabili. Scriviamo quindi la matrice dei coefficienti m uguale k 16 1k. Se calcoliamo il determinante di m, determinante uguale a k alla seconda meno 16, calcoliamo il determinante e osserviamo che k compare a un grado superiore a 1. Questo può capitare quando il parametro k compare più di una volta. Allora, andiamo a stabilire quando il determinante di m è diverso da zero. Osserviamo che il determinante di m è diverso da zero quando k è diverso da più o meno 4. Quindi, per tutti i valori di k diversi da più 4 e da meno 4, concludiamo che il sistema ammette un'unica soluzione. Andiamo quindi a considerare i casi che abbiamo escluso. In questo caso sono due e cominciamo con k uguale a più 4. Nel caso di k uguale a 4, il determinante della matrice m è uguale a 0 e quindi la caratteristica della matrice m è uguale a 1. Scriviamo la matrice completa dove sostituiamo già al valore generico di k il valore che stiamo considerando, ossia k uguale a 4. Quindi avremo 4, 16, 4, 1, 4, 1. Osserviamo subito che la prima riga si può ottenere dalla seconda moltiplicando per 4. Questo significa che le due righe della matrice completa sono fra loro direttamente proporzionali. Questo si traduce nel fatto che la caratteristica della matrice completa è uguale a 1. Siccome le caratteristiche delle due matrici sono uguali, concludiamo che per il valore di k uguale a 4 il sistema ammette infinite soluzioni. Ultimo caso che consideriamo è k uguale a meno 4. Per k uguale a meno 4, esattamente come per k uguale a 4, la caratteristica della matrice m è uguale a 1. Andiamo a scrivere anche in questo caso la matrice completa, sostituendo al posto del generico valore di k il valore k uguale meno 4 che stiamo considerando. avremo meno 4, 16, 4, 1, meno 4, 1. Osserviamo che in questo caso le righe della matrice completa non sono fra loro proporzionali. Quindi possiamo concludere che la caratteristica della matrice completa nel caso di k uguale a meno 4 è uguale a 2. Poiché le due caratteristiche sono fra loro diverse, concludiamo che per il valore di k uguale a meno 4 il sistema non è risolubile. Ciao a tutti! Grazie a tutti.